Ancora un colpo di scena sul crack di Banca Etruria. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello a carico dell'ex presidente Giuseppe Fornasari e dell'ex direttore Luca Bronchi per ostacolo alla vigilanza. Gli ex manager della Banca Retina erano accusati di aver falsato le condizioni patrimoniali. Il processo di primo grado si era concluso nel novembre 2016 con l'assoluzione di tutti gli imputati, compreso l'ex dirigente Davide Canestri. Quest'ultimo in appello venne assolto mentre Bronchi e Fornasari furono condannati a un anno e un mese di reclusione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso dei difensori che contestavano la motivazione della sentenza ritenendola giuridicamente contraddittoria, così l'avvocato della difesa Antonio D'Avirro. Adesso il processo andrà ripetuto ma in una sezione diversa dalla precedente la data non è ancora stata fissata. Speriamo che non intervenga la prescrizione commenta Lorenza Calvanese, avvocato di parte civile. Noi non eravamo stati ammessi in questo procedimento. Qui abbiamo quindi un morto e non si riesce a capire chi in realtà si è morto di morte naturale oppure in realtà praticamente qualche d'uno ha contribuito. Però i miei che ormai conoscono bene questa vicenda e si sono anche abituati a questi continui colpi di scena a questo punto fanno una riflessione più profonda. Quindi per loro è diventato ora indispensabile avere un'interlocuzione diretta coi vertici di Banca d'Italia perché vogliono capire il ruolo avuto in quegli anni dall'ufficio di vigilanza. Perché tra quello che dice Banca d'Italia e quello che sono alcuni esiti processuali anche se non definitivi c'è una discrepanza enorme e quindi a questo punto vogliono arrivare a un chiarimento quindi con Banca d'Italia, con i vertici di Banca d'Italia e soprattutto quindi con la vigilanza.